Buon pomeriggio a tutti, amici nerazzurri, amici in generale di YouTube. Mentre ci godiamo questo lunedì, che è figlio di un weekend meraviglioso per noi, cuori nerazzurri con la vittoria contro il Verona, la sconfitta del Napoli, il pareggio del Milan, il potenziale primo posto, attenzione all'italiano, potenziale, perché io so benissimo che le partite vanno giocate. Non vuol dire che col Bologna abbiamo vinto, vuol dire soltanto che rispetto agli altri abbiamo tre punti in più in gioco. Quindi se si fanno gli stersi risultati con tre punti in più sei potenzialmente primo. Ma questo video è fatto per dirvi che oggi ho fatto il biglietto per andare a vedere il derby. Quindi il 19 aprile allo stadio Giuseppe Meazza per sostenere l'Inter ci sarò anch'io, sarò in Curva Nord, terzo anello sarà il mio primo derby e a distanza di poco più di una settimana sono emozionatissimo. Non vedo l'ora di trovarmi lì in mezzo ai ragazzi della Curva, che sarà anche la mia prima volta in Curva, perché le altre volte mi sono trovato ingradinata, a volte un po' più decentrato verso il settore ospiti, tipo in Champions, ero in mezzo ai tifosi del Barcellona. È stata una cosa bellissima, pacifica, a parte il risultato però. Ci siamo trovati benissimo. L'altra ero sempre ingradinata, anzi addirittura con il Barcellona. Eravamo vicino la Curva ma in tribuna rossa. E dall'altro lato invece per quanto riguarda la partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Ragazzi, sono emozionatissimo, non vedo l'ora che sia il 19 aprile per ritrovarmi finalmente a San Siro e per godermi il mio primo derby, che possa essere di buon auspicio. Sempre Forza Inter e ci vediamo al prossimo video.